Salve amici del canale, grazie per tutti coloro che mostrano interesse per questo mondo che ripeto è un mondo molto affascinante, particolare, ma va molto seguito e curato in quanto le cose belle sempre così, bisogna sempre trattarle nel migliore dei modi. Uno di questi è proprio quello di possedere un buono strumento, un buon astuccio che vi consenne di portare con voi la vostra penna, che sia essa una biro, che sia essa una stilografica, che sia essa anche una roller o anche matite importanti che hanno alcuni anche prezzi abbastanza elevati, quelli soprattutto da collezione, e questi sono indispensabili per portare con voi appunto il vostro strumento di scrittura. Allora, un primo consiglio che posso darvi, ho stilato una piccola pagella di 4-5 voci e il primo consiglio che posso darvi, come dicevo, è quello di non portare mai con voi una penna priva di questi, diciamo, strumenti che vi sto mostrando. Ovviamente ce ne sono anche di altri diversi, alcuni sono solo da scrivania, poi ci sono quelli addirittura che contengono tre penne, quattro penne, ma diciamo che in media vanno da uno a due, poi c'è pure chi ne porta tre. Allora, diciamo che la penna, per dire, quando la portiamo con noi, non va mai tenuta così alla rinfusa, bisogna sempre metterla all'interno di uno di questi, perché rischiate di far graffiare la, diciamo, la parte esterna della penna, quindi magari la resina, oppure l'argento, possono saltare delle placcature quando esse sono placcate d'oro, oppure, diciamo, d'argento, e questo è importante perché mi è capitato una volta che una penna veramente molto bella, una penna di 1200-1300 euro circa, si è rovinata proprio perché la mia testa aveva detto quel giorno di portare quella penna all'interno di una di quelle fessure che si trovano all'interno del marsupio, del mio marsupio che porto con me. C'era una fessura che all'interno si metteva una penna, e l'ho messa così, senza uno di questi astucci. Vado a casa alla fine della mia giornata, diciamo, molto impegnativa, e ho trovato la resina tutta graffiata e l'ho dovuta mandare in riparazione. Vi dico solo che il danno che mi è stato, che mi sono autoprodotto poi alla fine, a causa delle chiavi che graffiavano vicino la resina, mi è costato questo danno 300 euro, perché per la lucidatura e la placatura di una parte che era saltata di una penna, ho dovuto praticamente rimediare con, ovviamente, i soldi. Per evitare questi danni, vi consiglio innanzitutto di comprare un buon prodotto, e non quelli economici, ma il mio sono sempre solo consigli. Poi ognuno fa le sue scelte, qualcuno mi dirà, Raffaele, non dire stupidaggini, perché in realtà io ho sempre utilizzato questo, perché stai dicendo che non va bene, in realtà va benissimo. Io vi parlo per le mie esperienze che mi sono successe, e vi dico molto velocemente che ci sono alcuni materiali, tipo questo, che è una simistrofa, diciamo un simivelluto, se lo vedete già dal video, si può notare, è un semplice pannetto, diciamo, dove all'interno è stato costruito proprio per metterci una penna, molto semplicemente così. Vedete, ecco qua, abbiamo messo la penna all'interno. Si chiude la parte superiore e state a posto. Questo, ecco per dire, è un materiale consigliatissimo per la leggerezza e nei momenti in cui la penna sapete che la portate in questo modo, cioè con voi. Solo così. Avete mai visto qualcuno che gira con una cosa del genere in mano? No, perché questo qua, se lo mettete all'interno di un marsubio, soprattutto quando ci sono le chiavi di casa della vostra macchina, può succedere che le chiavi vanno a toccare questo materiale e quindi può succedere che con la forza della pressione esercitata stesso della chiave vi può ammaccare la penna all'interno. Questo, diciamo, è un materiale che sinceramente lo sconsiglio per quello che può succedere a una penna perché a me è successo anche con questo che una penna si è, diciamo, addirittura spaccata con una chiave che ha, diciamo, premuto all'interno del marsubio e l'ha rotta. Quindi, insomma, ragazzi, vi dico che questo qua lo trovate 4, 5, 6 euro oppure 3 euro magari su siti o da un rivenditore ve lo può anche regalare sulla penna, non lo utilizzate. È un mio consiglio, poi ognuno fa quel che vuole. Questo è di pelle, mi è stato regalato da un venditore squisito che ho prenotato una penna limitata e giustamente su una cifra del genere non dico la cifra, mi ha regalato questo qui fatto di pelle. Ma io non metterò mai una penna, mai più, qui dentro perché, guardate bene, ragazzi miei, questi qua che hanno la fessura aperta nella parte superiore tenderanno a, diciamo, a farvi graffiare la parte superiore della penna, per non parlare di penne doppie che non entrano proprio qui dentro. Magari qualcuno dirà sì, fanno anche misure più grandi, può essere ma io di questo qua comunque vi sconsiglio perché quando sono aperti come questo potrebbe graffiarsi, magari si infila una chiave all'interno e si graffia la resina. Poi i miei sono sempre solo consigli, molto carino e simpatico ma sinceramente come quello da me non verrà mai più utilizzato. Questo è un materiale di una pelle non di ottima qualità una cinquantina d'euro, Montegrappa, devo dire che sono un po' deluso dal fatto che, per il fatto che la pelle, guardate, ce l'ho da un annetto questa qui, e si è già un poco, diciamo, rovinato però vi devo dire una cosa, per quanto la pelle di questo prodotto non sia eccezionale, come vedete Montegrappa è un prodotto che io sinceramente gratisco tantissimo perché, guardate qua, questo c'è un magnete si apre e all'interno abbiamo il velluto guardate il mio video, questo qui non è incentrato per farvi vedere il marchio e il modello effettivamente come è ma vi posso dare dei consigli su che modelli più o meno comprare magari di un altro marchio che sia Pelican pure ne fa alcuni molto belli e che abbia queste caratteristiche ossia, una delle caratteristiche principali deve essere un buon prodotto cioè, un buon prodotto deve essere lucido come questo bello come questo la lucentezza è bella della pelle magari anche questo, se lo lucido, diventa migliore da un punto di vista estetico ma la praticità è fondamentale la pelle deve essere morbida come questo vedete? molto morbida deve avere un magnete molto potente non dico che deve avere una clip di chiusura magari anche forzata come questa vedete? una chiusura che dovete chiudere voi così perché è poco pratico o come questa che dovete infilare questo all'interno vedete? no io vi consiglio un prodotto come questo perché è molto veloce vedete? nella fase di apertura e chiusura questa è veramente un magnete eccezionale molto potente io con questo ci ho inserito qualsiasi tipo di penna come potete vedere molto velocemente ne inseriamo due io vi consiglio di comprare questo diciamo modello tipo così dove avete almeno due fessure all'interno che ci sia un magnete esterno che chiuda vedete come questo questo è un altro mio consiglio la pelle deve essere morbida come questo ripeto come prima e ovviamente all'interno ci deve essere il velluto come questo una specie di velluto velluto e deve essere separato fino alla fine del condotto come vedete vedete il condotto? è tutto chiuso ora vi farò vedere invece un prodotto che ha qualitativamente una pelle decisamente migliore costa il triplo di questo qui ed è ovviamente il famoso Mont Blanc Mont Blanc è un marchio che ecco come vedete questo è il prodotto in Italia made in Italy spero che si vedano bene le caratteristiche di questa pelle ovviamente è unica una pelle lucentissima bellissima il prezzo è salatissimo 150-160 euro in media qualcuno lo vende ancora pure di più qualcuno forse un 5-10 euro in meno ma comunque 150 euro è la media una pelle molto dura guardate questa si piega con molta difficoltà nonostante l'ho usato da un anno non è ceduto affatto non ha ceduto affatto questa è una cosa che non gradisco il fatto che hanno messo questo all'interno il divisore a parte questo è stoffa è all'interno non è stoffa voglio dire sarà diciamo si no è stoffa è stoffa e voglio dire comunque alla fine stoffa e questo divisorio non è che a me li gradisco perché come potete vedere è spezzato questo c'è all'interno è tagliato vedete all'interno a un certo punto lì le due penne si incontreranno quindi il materiale migliore è questo cioè il velluto perché la penna attutisce bene i colpi dall'esterno e non la stoffa allora ragazzi andiamo subito alle conclusioni perché io i miei video cerco di farli più veloce possibile più sintetici possibili allora qualità pelle e materiali praticità morbidezza bellezza e costi è una piccola vagellina che ho stilato per ognuno di questi contenitori in mio possesso allora la stoffa questa qua diciamo si mi stoffa possiamo dire qualitativamente ragazzi da 0 a 100 per farvi capire mettiamoci un voto è 80 la pelle dura che sarebbe invece questo qua gli mettiamo 90 su 100 montegrappa che sarebbe invece il terzo questo qua per me questo è 98 su 100 e il montblanc come pelle qualità dei materiali e quant'altro è 100 su 100 perché ovviamente qua parliamo a scalare di a salire ovviamente di prezzi che aumentano sempre di più andando avanti praticità un altro valore che attribuiamo nella stoffa c'è sempre questo qui gli diamo la praticità 100 su 100 perché è praticissimo come materiale devo portare con sé poi fate le vostre valutazioni io non lo prendo per una questione di sicurezza questo praticità anche esso è un nudo molto alto 98 su 100 come praticità e come praticità montegrappa è anche esso un 98 su 100 incombro un po' in più ma è perfetto questo qua invece 95 su 100 cioè sarebbe il montblanc il montblanc 95 su 100 questo è montegrappa questo è questo e questo e quest'altro morbidezza ovviamente questo è 100 su 100 perché è un materiale molto morbido cioè sempre la stoffa questo qua è ovviamente abbastanza duro quindi 80 su 100 questa è una pelle molto morbida veramente ottima 95 su 100 e questo qui poi alla fine vi farò vedere la pagella totale questo qua è troppo duro 70 su 100 ragazzi bellezza 100 su 100 partiamo dal montblanc per andare più veloce montegrappa 90 su 100 qua alla fine vi dirò questo qua non c'è proprio c'è 80 su 100 e questo qua c'è un 70 su 100 cioè non è niente costi 100 su 100 ovviamente perché costa pochissimo cioè ma giusto per un simbolo no questo anche questo 100 su 100 questo 95 su 100 costa 50 euro in media e questo ragazzi veramente un voto pessimo cioè pessimo in media perché non è giustificato solo per il marchio un prezzo del genere allora andiamo alle pagelle velocemente allora ho dato dei voti simbolici i miei sono voti simbolici per quello che mi riguarda per diciamo la visione di questa di questi materiali e cose comunque fra tutti e tre ovviamente vedete questa è la pagella qualità e questi qua qualità della pelle ovviamente intendiamo pelle o materiale 80 90 98 100 il Montblanc prevale sulle qualità ma non sulle praticità praticità infatti scende un poco tutti gli altri hanno voti più alti la morbidezza sono tutti morbidi tranne il Montblanc che in realtà non è tantissimo diciamo né pratico né diciamo morbido quindi fa parte comunque un po' della praticità la bellezza ovviamente a scalare perché il prezzo giustifica come vedete eccolo qua la bellezza scusate vedete Montblanc prevale su tutti Montblanc vedete sopra il titolo e ovviamente i costi questo 5 euro in media 3 euro 5 euro lo trovate questo lo trovate intorno agli 8 euro questo 50 euro e 150 ragazzi velocemente non voglio farvi perdere tempo questi sono i prodotti io annullerei questi due per sempre per tutta la vita poi uno faccia le sue scelte io sono solo consigli che vi voglio dare non sponsorizzo nessuno voglio solo farvi capire qual è il meglio del meglio per me fra tutte e due questo lo utilizzerei solo in occasioni speciali perché se si graffia la pelle fate un danno altissimo e oltretutto è poco pratico da portare per dire a scuola o al lavoro questo usatelo solo se andate a fare una firma importante da qualche parte però da portare con sé io lo sconsiglio è il più bello di tutti non c'è dubbio come qualità ma non è molto pratico e tanto meno le penne fanno fatica ad entrare qui dentro rispetto a questo questo veramente è un prodotto utile sia come bellezza praticità manovrabilità anche diciamo manualità e ovviamente sarete veloci ad estrarre le penne in questo modo anche per il modo di prendere quindi comprate per dire vi faccio velocemente il mio revilogo questo prodotto e andrete sempre bene anche se sia di un altro marchio grazie